Io la vorrei chiamare della continuità, continuità nel vincere fuori quando si va fuori, giocare anche se non c'è stato. Da qui dobbiamo ripartire con maggiore, sì, anche conseguibilezza. Assolutamente sì, potrebbe essere anche più ampio, abbiamo creato diverse situazioni per concludere, per chiudere la gara. Da questa partita la squadra deve prendere una grandissima fiducia per affrontare il futuro. Questo mi fa piacere perché abbiamo lavorato molto su questo punto. Venivamo da due sconfitte, è vero, però le prestazioni di Venezia e anche la prestazione di Lecce non erano così deludenti. Per cui la squadra ha mostrato anche la giusta personalità e maturità per gestire queste due sconfitte e per affrontare il Debbia, una partita così importante. Io, Daniel, l'ho sempre voluto, l'ho cercato in tante situazioni ma non è stato possibile. L'Upre è un'età abbastanza avanzata, però la sua professionalità e i suoi valori poi vengono ripagati. Ma così per Daniel, io mi auguro anche per tanti altri giocatori che sono un po' adesso ai margini o comunque fuori, possano riprendere quella del loro verbo.